Era uscito in moto per una gita sui Sibillini con un paio di amici che purtroppo lo hanno visto morire sotto i loro occhi. La vittima è il 49enne Cristian Laferla, originario di Caltanissetta in Sicilia ma residente a Montesilvano. Dall'Abruzzo i motociclisti avevano raggiunto alle strade del Piceno e nel tratto acquasantano della Salaria è avvenuta la tragedia. Il centauro si è schiantato contro il guardrail ed è morto praticamente sul colpo. L'incidente stradale si è verificato intorno alle 16 di domenica tra le frazioni di Fava Lanciata e Quinto Decimo per cause ancora al vaglio dei carabinieri di Acquasanta giunti sul posto per i rilievi di rito. Stando ad una prima ricostruzione i tre centauri partiti per una gita fuori porta, nel pomeriggio probabilmente mentre facevano il ritorno a casa stavano percorrendo la Salaria in direzione Ascoli ma giunto nei pressi del bivio per Capodirigo Cristian ha perso il controllo della moto in uno dei tornanti ed è andato a sbattere contro il guardrail. Un impatto violentissimo che ha disarcionato dalla sella il 49enne mentre la moto ha finito la sua corsa a 30 metri di distanza dal punto dell'impatto. Sono stati i suoi amici a richiedere immediatamente i soccorsi e sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un'ambulanza della Croce Verde con il personale sanitario a bordo che una volta giunto sul luogo della tragedia non ha potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso di Cristian Laferla. L'uomo appassionato di motori era sposato e padre di un figlio. La terribile notizia ha lasciato sconvolta l'intera comunità pescarese. Il 49enne era infatti uno dei punti di riferimento dell'azienda Ricopi di Città Sant'Angelo che distribuisce macchine per uffici rigenerate ed era piuttosto conosciuto per il suo lavoro.